Tifosi Viola, buonasera a tutti da Lorenzo Mancini Fatica per arrivare a questo pareggio Lo riagganciamo proprio all'ultimo contro un Verona In emergenza anche Ma questa naturalmente è il primo minuto Avevamo già capito dopo Ma nemmeno anche prima del diciassettesimo Sarebbe stata una di quelle partite veramente stregate Dove avresti trovato il vantaggio solamente magari E appunto poi si è anche preso il gol con Lasagna Primo gol in Serie A da aprile Abbiamo preso gol al diciassettesimo Ma anche fino a quel momento eravamo stati veramente nulli Ma proprio la Fiorentina è stata nulla fino all'ottantesimo La trama di gioco oggi era Palla a Vlaovic e pregare e che la tenesse Comunque prima che inizi poi la disamina Su tutta la partita mi raccomando Mettete mi piace, iscrivetevi al canale Commentate facendomi sapere le vostre sensazioni su questo pareggio Vabbè lasciamo stare scandaloso a mio parere Ma poi lo capiremo durante le pacelle La considerazione post partita Iniziamo Allora Iniziamo da come era stata schierata la formazione in campo Per quanto mi riguarda Per l'attacco ero molto contento L'ho scritto anche su Twitter Per l'attacco ero molto contento Mi fa piacere sempre vedere un sottile lanciato in gara Insieme a Niko Gonzalez e Vlaovic Poi il mio giudizio è cambiato nell'arco dei 90 minuti naturalmente Il centro campo per quanto fosse il solito Ma comunque andava bene La difesa ecco Ero molto molto scettio sulla difesa E apriamo un capitolo Anche poi vabbè Insomma su venuti Ma apriamo un capitolo proprio sull'intera difesa E' stata riproposta pari pari la stessa difesa Di Fiorentina Benevento di Coppa Italia Già lì facciamo un po' di fatica A comunque reggere il risultato E rischiamo parecchio Contro comunque una squadra di Serie B Col Verona oggi si è visto che la difesa Tra Igor, tra Venuti Terzic si salva in fondo per l'assist Milenkovic insomma Se non gli viene messo accanto Martínez Quarta Si abbassa diciamo anche la sua qualità di difensore Ma è stata una difesa che non si è proprio coordinata bene In nessun modo Né per i lanci lunghi Né per gli scambi Per le diagonali difensive Qualcuno buono ne ha fatto cosa Ne ha fatto Terzic Ma Venuti oggi disastroso Disastroso E spero Ma questo è un discorso che va avanti oramai da tanto tempo Che si veda la differenza comunque tra un Odriozola e un Venuti Con tutti i beni di mondo per Venuti Con tutti i beni di mondo per sta nouvelle vague di Lollo Capitano Ma non è un giocatore da Serie A E da queste partite soprattutto Mi dispiace dirlo La Fiorentina se vuole puntare Se vuole proporre il gioco sulle catene È la sua forza L'abbiamo visto oggi Dalle parti centrali Quando ci passavamo ci passavamo È male Quindi sulle catene siamo riusciti A esprimere il nostro gioco migliore È italiano E esprime bene il suo gioco sulle catene Quindi una fascia con un Venuti e un Nico Gonzalez in giornata Omero oggi Non ti può produrre niente Una fascia Terzic e Sottil come era messo oggi Non ti può produrre niente Oggi veramente veramente molto molto male Poi insomma Analizziamo ecco il primo tempo dopo aver analizzato la formazione Primo tempo una partita ecco Ho tolto il gol di Lasagna Veramente poi I primi 20 minuti dell'Ellas Sono stati devo dire bravi loro A tenerti in pressing A chiudere in un quadrato di Gab Praticamente anche la fase di impostazione di Torreira Ma poi Offensivamente Hai prodotto zero Forse un Ma non so nemmeno Un tiro in porta Una smorza Un alleggerimento di Vlaovic verso il portiere Ma poi nient'altro In difesa Disastroso Assolutamente Le coperture di Mancate coperture di venuti Igor I passaggi di Igor La fase di impostazione di Igor oggi è stata atroce Non ne parliamo Palloni persi Tocchi sporchi Il centro campo non mi è piaciuto tantissimo Da una parte è stato un bene Abbiamo visto poi anche alla fine Che Voluto dirlo Ma che Buonaventura si è fatto male E si è andata a Storviglia Magari regalare un pochino più di velocità Un po' più di estro Ecco Il riassunto del primo tempo E' quel tiro di Buonaventura Quel non tiro di Buonaventura E' arrivato fino in area di rigore Aveva fatto questa bella progressione E' arrivato non fino in area di rigore Fino al rettangolino di davanti al portiere E non è riuscito nemmeno a tirare Ecco lì insomma Magari Jack un pochino più sveglio Anche da quel punto di vista Però ecco insomma Il primo tempo potrebbe riassumersi con quel tiro lì Nemmeno Nemmeno tanta produzione offensiva Proprio una Una poca lucidità nella manovra Nel gestire la manovra Devastante Già che nei primi 20 minuti di pressavano Ma poi comunque Quando loro hanno smesso la loro fase di pressing Perché dopo giustamente L'1-0 Loro Tac Si sono richiusi indietro Teno si è comunque riuscito a impostare Secondo tempo Le cose sono un pochino cambiate Saponara che riesce sempre A fare 10 minuti di apparizione massimi Per uscire L'altra volta per espulsione Oggi Perché probabilmente Spero Cioè Spero non gli si sia rotta la mano Perché sembra veramente Insomma Che lo abbiano Lo abbiano prestato ben bene Ma al secondo tempo Sì Diciamo che si è visto qualcosa In più di buono Il gol Nasce da una buona verticalizzazione Una buona La palla L'ha tenuta bene Vlaovic Che poi l'ha servito a Terzic Cross in mezzo Ottimo inserimento di Di Castro Che in tuffo di testa Riesce a segnare Ma una partita di quelle Ragazzi stregate Veramente Che sembrava potesse finire 1-0 Per come si era messa La dico sinceramente Il pareggio Considerando anche Il risultato della Roma Che ha pareggiato 1-1 Contro la Sampdoria In ottica classifica Non è male Ora noi Non eravamo nemmeno Più abituati a pareggiare Siamo già al secondo pareggio Di fila Diciamo che lo scorso Un po' lo rosichi Perché magari senza L'espulsione di Biraghi La poteva giocare Questo È stato Insomma Visto come era messa la partita Ci stavo già pensando A cosa dire Ma comunque Il gol di Astrovilla È stato una mano dal cielo È veramente Però vabbè A parte quello Andiamo a dare le pacelle Poi magari Dato che c'è la pausa nazionale Faremo anche qualche considerazione Sul Sulle fasi Del primo girone Del girone Andato della Fiorentina Partiamo da Terracciano E oggi devo dire Allora Gli insufficienti Saranno un po' di più oggi Naturalmente Perché la prestazione Della squadra In complessivo È insufficiente Ma anche Terracciano Oggi non mi è piaciuto tantissimo Insicuro su certi palloni Alla fine Al 94esimo Ha respinto Di Pogno Una palla velenosissima E sul gol A mio parere Poteva fare un pochino di più Col piazzamento Comunque Gli do 5 più 5 e mezzo Partiamo dalla difesa Terzi Gli do 6 meno Insomma Il 6 Inflazionato dal meno Naturalmente È dato dall'assist Il meno Per la prestazione Che comunque Lascia un po' a desiderare Ecco Ora Molti Repudiano Biraghi Pensano che Non sia un giocatore Influente Ma Credo si sia vista Forse addirittura La mancanza di Biraghi In questa partita Terzic Quindi 6 meno Igor 5 Una partita oggi Veramente Da brividi Da brividi Spaventosa Milenkovic 5-6 Una partita Che si avvicina Alla sufficienza Qualche chiusura Difensiva Per Diciamo Tappare I bugli Le lacune difensive Del brasiliano Ma Insomma 5-6 Anche per lui E venuti 5 Capitano Sì Tutto quello che volete Vuore Viola Di Firenze Ma una prestazione Oggi Non mi è piaciuta Proprio non mi è piaciuta Per niente I sostituti in difesa Iniziamo da Odrio Zola Allora Odrio Zola Si è visto poco Entrato al settantesimo Ma insomma Si è visto poco Anche da lui Sì Qualche proposizione Offensiva Interessante Sicuramente si nota il gap Di abilità Rispetto a venuti Ma gli do un 6 Senza voto Insomma Si è visto poco Andiamo poi Se non sbaglio Poi non ci dovrebbero essere State più No Non ci sono stati più Ingressi in difesa Andiamo a centrocampo Torreira Confusionario oggi Lui si prende una insufficienza Si prende un 6- Perché comunque Non mi è piaciuto Troppo Anche nervoso Teneva pochi palloni In generale Il centrocampo Non è stata una bella partita Forse anche Dovuto al fatto Che è stato Molto contrastato Oggi Molto rinchiuso Duncan Allora Ecco Lo non ho menzionato Nel secondo tempo Dall'ottantesimo All'ottantatresimo C'è stato Il momento di fomento Della Fiorentina Dove Duncan Aveva anche l'occasione Di portarci sui 2-1 Posso forse Rieliminargli Quella cosa lì Ma comunque Una partita in complesso A parer mio Da 6- Quella di Duncan Non di più Buonaventura È uscita al 45esimo Per questa Botta al fianco Se non sbaglio Ma allora Sempre Le solita qualità Centro campo Però Troppo lento In quell'occasione lì Mi dispiace Prende 6-5-6 Anche lui Non è una prestazione Sufficiente Nemmeno da parte sua Ecco L'attacco Mi ha deluso molto Ero partito molto gasato Per l'attacco Ero molto Intrigato Dal vedere un attacco Del genere Con Gonzales Vlaovic E Sottil La sufficienza unica È quella di Vlaovic Che lotta comunque Su tutti i palloni A cui sono stati fissiati Tra parentesi Anche poi i falli L'arbitraggio di doveri Oggi mi è piaciuto Veramente poco Comunque Gonzales 5-5 Una partita Fastidiosa Quella di L'ho descritta Come fastidiosa Mentre Parlavo anche Come babbo Oggi una partita Veramente fastidiosa Quella di Nico Gonzales 5-5 Nonostante fosse partita Inizialmente da destra E poi si sia spostata A sinistra È già 3 o 4 partite Tre partite Perché quella di Bologna Sì ha giocato molto bene Ma sono 3 partite Che non mi sta piacendo Per niente Quindi 5-5 Per lui Sottil Anche lui 5-5 5-5 Intrigato Dal vederlo partire Da sinistra Per entrare sul destra Qualche pallone interessante Verso l'inizio della partita Ma comunque Anche lui Confusionario Troppo nervosi Anche davanti Vlaovic Gli do 6 Lotta Fa la sponda Per Terzic Che poi Crosse e mezzo Per Castrovilli Lotta tantissimo L'ho già detto Comunque Peccato che non sia arrivato Ecco Non è arrivato Il record di gol oggi Ha comunque guagliato Il gol I record di gol In una stagione solare In un anno solare 33 Non male Comunque Peccato oggi Si è mancato il gol Ha avuto qualche occasione È vero Ma Oggi Chi lo marcava Non so se Casale O Suta Insomma Erano diventati Maldini prime Perché contro di noi Ci sa sempre L'uomo di turno L'altra volta Consigli era diventato Buffon Nella finale 2006 Oggi Casale è diventato Maldini Quindi insomma Comunque Siamo sempre fortunati Al livello di avversari Ecco Andiamo in panchina Invece subentrati Allora Castrovilli Castrovilli Io gli darei anche 6 più Solo per come è entrato Ha portato un po' di freschezza Un po' di brio Qualche pallone perso Anche lui un pochino Nervosetto all'inizio Però La cosa importante È che abbia trovato il gol Anche lui Il suo primo gol in Serie A Di quest'anno Ha giocato veramente poco Credo che questi Siano stati i suoi primi Cioè Insomma 45 di Empoli Più questo Credo che siano 90 minuti In campo per lui Un gol E insomma Ragazzi Alla fine Ci ha salvato la giornata Perché oggi Una sconfitta Sarebbe stata veramente devastante Saponara Senza voto Perché comunque È stato prestato la mano Veramente dopo poco E poi Cajon Che è subentrato Dopo 7 minuti Ecco Leggo qua Dal tabellino È entrato dopo 7 minuti Al posto di Saponara Ma anche lui Più o meno Come Odriozola Si sono visti pochi Abbiamo attaccato Soprattutto Dalla parte Di sinistra Nel finale Anzi Il gol è arrivato proprio da lì Quindi anche A Cajon Come Odriozola Gli posso dare 6 Senza voto Ma insomma Poco rilevante Ecco il suo ingresso Purtroppo La cosa che mi fa Ecco Voto italiano Per finire E oggi Non ha preparato La partita A paremio bene Non siamo riusciti A eludere bene Il pressing Dell'Ellas All'inizio Devo dire Che da quel punto di vista È stato più furbo Tudor A schiacciarci Nel Nel Nostre Nella nostra Metà campo Per i primi Per il primo quarto Per i primi 20 minuti L'italiano oggi si prende 5 e mezzo Ma come tutta la squadra Una prestazione da 5 e mezzo Oggi si salvano giusto In due o tre elementi Per il resto Molto insufficiente La prestazione Fa riflettere il fatto Appunto Che l'Ellas Verona Abbia sempre attaccato Quasi Se non sbaglio Dalla fascia Di venuti Insomma Detto questo Ecco La classifica Ora Se non sbaglio Ci vede Al Settimo posto Comunque Scotia Non aver vinto Oggi Contro l'Ellas Perché Era una partita Alla portata Loro avevano Tutti i sostituti Out Ma questa è la maledizione Tutti i titolari Out Scusatemi Avevano 5 titolari Out Ma è come il Milan Con noi Alla stessa cosa Cioè Noi avevamo In totale emergenza Abbiamo sfoderato La prestazione Della vita Lo stesso ha fatto L'Ellas Oggi Un po' Una sorta di maledizione Dei titolari Detto questo Rimane il ramarico Per non aver centrato La vittoria oggi Per non aver concluso L'anno in bellezza Purtroppo arrivano Due pareggi Anche molto ravvicinati Che un po' Ti lasciano con la mare in bocca Però Detto questo Pensiamo all'anno nuovo Domani dovrebbe fare Tra l'altro Le visite con E Magari ecco Ci ritroviamo domani Sul canale per parlare Un pochino magari Di cose Di cui non ho trattato oggi E per commentare Se ci saranno E se ci sarà L'arrivo ovviamente Di icone Detto questo ragazzi Ci vediamo domani E sempre sempre Forza Viola Ciao